Mazzi di fiori variopinti sui gradini e sul sagrato della chiesa, come ricordi indelebili che nessuno, neanche la morte, potrà mai recidere. Dopo Piacenza anche Fiorenzuola ha voluto ricordare tutte le vittime del covid con una messa ufficiata da Don Illica. Numerosi parrocchiani o semplici cittadini che ieri sera, disposti a distanza e con ordine, hanno ascoltato le parole del parroco che ha esortato i fedeli a non avere paura. La morte non è più forte della vita. Non avere paura l'ha detto Gesù, erano i tre inviti di oggi di Gesù e però anche non avere paura perché io ci sono. Il terzo motivo di Gesù di non avere paura è perché io ci sono e allora mi sembra che questo dovrebbe essere anche la nostra risposta, cioè quando diciamo non avere paura dobbiamo avere il coraggio di dire guarda che io sono impegnato con te, guarda che mi interessa la tua vita, non è soltanto una così, una pacca sulle spalle. Io posso solo esprimere il mio orgoglio di sentirmi fiorenzuolano per avere visto tanta partecipazione a questa messa.